Dylan Dog 422, il momento blu. Assisteremo a una strage in una scuola. Wabalaba dab dab e soprattutto wabalaba dab dab al quadrato e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Dylan Dog serie regolare. Oggi parleremo del momento blu, il numero 422, con un piccolo pochino di ritardo perché appunto, come saprete, essendo stato a Lucca Comics quel giorno in cui è uscito, ero ancora in giro. Ma non a Lucca perché stavo tornando e quindi non ho preso subito il fumetto, l'ho letto giusto oggi. Mi scuso per un eventuale ritardo sui miei soliti tempi di marcia. Cominciamo quindi subito col parlare di questo numero. Anzi, prima di cominciare, se volete iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega, di commentare questo video con quello che ve ne è parso di questo numero e di condividere il video con tutte le persone che frequentano la scuola. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, perché prima o poi le live si sposteranno quasi definitivamente di là, quindi vi conviene iscrivervi. Allora, la storia in questione è scritta da Andrea Cavaletto e i disegni sono di Christopher Possenti. Ci tengo a dirlo perché appunto io ho trovato nel numero qualcosa di diverso dal solito anche nell'approccio proprio alla narrazione e anche al disegno, ovvero in diverse occasioni, in speciale inizio poi mi sono abituato, ho trovato dei tagli tra una sequenza e l'altra che mi hanno un po' stordito, mi hanno un po' sballottato qua e là, no? C'è un rimando, c'è una scena in cui ci sono questi due ragazzi sulla panchina che dicono ok è il momento, poi Dylan va in una scuola, non si capisce che le due trame sono inizialmente separate, ecco, sembra tutto collegato, cioè uno dà per scontato che sia collegato, invece le trame sono separate, anche successivamente ci sono un paio di momenti in cui ci sono appunto dei cambi scena un po' repentini che mi hanno un pochino stranito, no? Mi hanno fatto, mi hanno lasciato un attimo perplesso, poi mi sono abituato diciamo a questo stile di narrazione, comunque la lettura ha preso ben piede, quindi ecco faccio solo questo appunto perché se lo avete magari riscontrato anche voi non vi lasciate scoraggiare da questo, andate avanti fino alla fine perché la storia comunque merita, non è purtroppo una storia assurdamente originale per il semplice fatto che le stragi nelle scuole non sono tantissime all'ordine del giorno fortunatamente, ma capita sempre di sentire ogni tot anni in America che qualcuno, qualche studentello, probabilmente arrabbiato col mondo, probabilmente vessato dall'intera scuola realmente oppure dal suo punto di vista decide di fare una strage, quindi questo numero è, fa parte appunto di una corrente che va e che viene, se non è attuale quest'anno purtroppo potrebbe diventare comunque attuale a breve, specialmente in America dove appunto le armi le puoi comprare al supermercato, magari tra un po' le troverai anche nelle patatine, quindi è molto comune che si facciano queste cose con le armi, abbiamo visto anche come le trattano in maniera molto leggera anche al cinema, intendo dire sui set, quindi è normale che se tratti un'arma così potente che può davvero togliere la vita a una persona, con la leggerezza con cui tratti un qualunque oggetto di scena come può essere un libro finto o una sedia, è normale che prima o poi ci scappi il morto purtroppo. La storia inizia con un flashback davvero truffaldino che ci mostra un gruppo di bambini e ci mostra come tra questo gruppo di bambini ce ne siano due particolarmente avvezzi a conoscere film dell'orrore e pare che questi due oltre a essere avvezzi a conoscere film dell'orrore vedano anche in un certo senso l'orrore, vedano dei sogni ad occhi aperti e questi sogni sono fondamentalmente dei grossi insetti, come dei cento piedi, dei mille piedi, li vediamo anche qua nella copertina, copertina quantomeno azzeccata, ecco vi ricordate che l'altra volta dicevo la copertina non c'entra molto, era proprio una specie di presentazione, ok siamo i cestari o bros, questo è il nostro stile, qua invece la copertina è davvero azzeccata, ci sono esattamente i personaggi, quindi c'è il tizio che fa la strage nella scuola e questi insetti che appunto vedono i bambini, quindi è molto azzeccata e questi due bambini vedono queste cose, non c'è dato sapere cosa sono e poi la storia si trasferisce nel tempo presente Dylan Dogg appunto, ancora una volta che lo sapete a me non piace, si trova coinvolto solo malgrado in un'avventura, non è ingaggiato nonostante sia un detective ma si trova lì perché si, ok possiamo dare in un certo senso la colpa al suo quinto senso e mezzo che a quanto pare può funzionare anche in entrambi i modi, cioè è il suo quinto senso e mezzo che lo manda nel posto giusto al momento giusto, possiamo spiegarcelo così, però è frustrante dopo un po' sapere che dove c'è lui ci sono i guai, preferisco davvero di gran lunga il fatto che lui prenda un caso e lo vada a seguire, poteva essere benissimo una ragazza scomparsa in una scuola e che magari era la prima vittima di questa strage, che cazzo ne so, però vabbè niente va a scuola e va a prelevare una ragazzina che così a occhio presumo sia tra i 14 e i 19 anni l'età delle superiori perché è figlia della donna che Dylan sta frequentando, donna di cui non sappiamo nulla perché non è importante, noi sappiamo che Dylan ne frequenta una al mese quindi sappiamo che questo è l'espediente narrativo per la quale questo mese ha una sorta di figlia adottiva, mettiamola così, questa figlia ovviamente vuole attenzioni dalla propria madre che non ci sente da quella campana anche perché è la dimostrazione del fatto che per andarla a prendere a scuola perché si è finta malata ha mandato il suo attuale compagno ovvero Dylan e quindi così incrementando questa catena di disinteresse e di diciamo odio tra virgolette della figlia verso la propria madre. Come se non bastasse questa figlioletta qui frequenta anche un bulletto della scuola che è proprio intento a diciamo prendere in giro lo stereotipo dello sfigato della scuola. Però le cose a un certo punto si diciamo le carte in tavola cambiano un attimino quando un professore li spedisce tutti dal preside Dylan compreso perché ha cercato di separare questa aggressione e si nota soprattutto dopo quando hanno la parola sia il nerd, lo sfigatone, sia il bullo che non li hanno quantomeno rappresentati con il classico stereotipo del bullo ignorante. Hanno mostrato nello sfigato una certa rabbia repressa che è più reale di quanto non venga mostrato nei classici film americani che è una rabbia distruttiva che se va pungolata troppo rischia appunto di esplodere e invece nel bullo abbiamo visto comunque una coscienza, scusate una coscienza, un'intelligenza sociale superiore a quella del ragazzo sfigato. Questa sensibilità nello scrivere questi due personaggi mi è piaciuta molto. In tutto questo, in questa scena ci rendiamo finalmente conto che i due attentatori non sono parte di questo gruppo, quindi non è la figlia adottiva di Dylan, non è il suo ragazzetto bullo, non è il ragazzo sfigato, ma sta succedendo qualcosa da parte di questi due ragazzi che abbiamo visto sulla panchina all'inizio che a un certo punto si mettono una maschera, quello che potrebbe essere un passamontagna da quanto è aderente, stanno mezzi nudi e si mettono a sparare alla gente con un piano anche ben articolato, quindi la scuola è su un'isola, fanno saltare il ponte, la ragazza sta fuori a aspettare la gente che scappa, il ragazzo va dentro ad ammazzare tutti per farli uscire, insomma sono ben organizzati. Una bella strage non dettata in questo caso dalla rabbia perché altrimenti non ci sarebbe stata tutta questa pianificazione, tutta questa organizzazione, ma dettata quasi da un senso di, non lo so, giustizia distorta che loro vedono e che alla fine viene parzialmente spiegata, viene volutamente parzialmente spiegata proprio perché ci lasciano, gli autori ci lasciano un attimino di libera interpretazione proprio perché ognuno possa metterci la propria esperienza personale. Le uccisioni vanno dal colpo secco di pistola a uccisioni ben più splatter tipiche di Dylan Dog e questa alternanza fa in modo che le uccisioni splatter, mi riferisco in particolar modo a quella di pagina 63 che è forse la più cruda di tutte, la più gratuita e cattiva di tutte, la rende ancora più cruda da vedere più cattiva proprio perché tutte le altre uccisioni precedenti e magari anche quelle successive non sono state così rappresentative ma semplicemente si è visto in penombra il colpo di pistola. Questa sempre viene vista comunque off screen in un certo senso ma ci sono un paio di dettagli che ti fanno davvero venire, metaforicamente perché non ho uno stomaco così debole il conato come lo stesso studente che ha assistito alla scena ha avuto. Probabilmente anche questa storia è stata scritta prima del software reboot dove il soprintendente block non era soprintendente ma era l'ispettore e Dylan Dog non era a tutti gli effetti suo figlio adottivo ma non è dato, non c'è pesata questa cosa, non si nota, c'è solo una scena che funziona in entrambi i casi, quando l'ispettore block o il soprintendente che dir si voglia nota nel parcheggio anche l'auto di Dylan la sua espressione cambia e esclama semplicemente un dannazione. Questo dice tutto sulla sua preoccupazione e sul suo rapporto che ha con Dylan a prescindere che sia suo figlio oppure no. Come ho detto all'inizio Dylan è quasi per caso coinvolto in questa avventura ma anche se sembra che quasi per caso è risparmiato dagli attentatori in realtà qui cercano di metterci una sorta di motivo. Pare che anche gli attentatori, prendetela con le pinze questa cosa, abbiano in un certo senso un quinto senso e mezzo e che è proprio questo quinto senso e mezzo a mostrare loro questi scarafaggi, questi insetti enormi, questi centopiedi. Io non ho capito, il disegno non mi ha aiutato in questo, se loro vedono questi centopiedi tra le persone o vedono le persone come dei mostri. Non ho capito questa cosa. A livello narrativo è più probabile la seconda, a livello di disegni non mi sembrava che fossero localizzate nello stesso punto i mostri e le persone stecchite. Quindi va da sé presupporre che questi due ragazzi siano gli stessi dell'inizio, i due bambini che sono stati visti all'inizio ed è un'operazione molto rischiosa perché il lettore medio, il humor potrebbe dire, ah visto questi ragazzi che vedono i film horror vengono traumatizzati al punto che fanno una strage nelle scuole. E invece no, continuate a leggere. Dicevo, Dylan Dogg appunto viene risparmiato da questi due balordi proprio perché capiscono che anche Dylan in un certo senso vede le cose. Non c'è mai stato detto ma non è una cosa che può essere esclusa. In un certo senso Dylan vede i mostri, i reali mostri che ci sono nel mondo. Si capisce che Dylan li ha sempre percepiti e in questo senso ecco questi due ragazzi lo risparmiano perché trovano che Dylan sia come loro. E questo quantomeno dà un senso al fatto che Dylan venga risparmiato perché stanno davvero facendo fuori tutti. Con un salvataggio in extremis Dylan riesce a sopraffare, non da solo ovviamente, questi due ragazzi, con l'aiuto ovviamente di Scotland Yard e delle persone che erano in ostaggio con lui, si può dire, e si vede nell'esplosione finale di uno di questi due ragazzi, si vede che anche da lui esce appunto questo mostro. Questo per dire che questi due ragazzi, come loro stesso hanno detto, vogliono ammazzare tutte le persone in questa scuola proprio perché la scuola genera mostri e la scuola forse il primo, come si dice, il primo step che dovrebbe immetterti nella società, dovrebbe farti crescere nella società ma in realtà è il primo step che ti traumatizza, che ti fa diventare un mostro della società o in un modo perché diventi un disadattato perché tutti ti trattano come un pezzo di merda o in un altro perché appunto entri in un circolo di VIP in cui ti senti onnipotente e tratti tu gli altri come un pezzo di merda e di conseguenza sei tu il mostro della società in futuro. Quindi o di qua o di là la scuola genera questo, altro che il sonno della ragione, è la scuola che genera mostri. Peccato che questi mostri vengono generati da entrambe le parti, vediamo che lo stesso ragazzo che voleva appunto uccidere i futuri mostri della società è diventato esso stesso un mostro, è diventato esso stesso uno scarafaggio nel momento in cui si è messo a fare questa pazzia, questa strage. Devo dire che questa storia mi è piaciuta molto ma ho come una sensazione di angoscia interiore che mi fa dire cavoli questa storia è molto bella, peccato che non ne sentiremo mai più parlare perché purtroppo il corso di Dylan Dog ha questo modo di gestire le storie che sono indipendenti, sono come un episodio della signora in giallo e magari ci beccheremo il sequel di questa storia tra vent'anni come è successo con il 421, cosa che mi dispiacerebbe molto. Francamente mi piacerebbe molto che questa qua sia la trama orizzontale di una sequenza di 10-12 storie, un anno di storie che possa far dare avanti Dylan. Io questo vorrei da Dylan, un corso di un anno con una trama orizzontale come questa con degli episodi a sé ogni mese. Questa trama orizzontale a cui mi riferisco è il fatto che nel finale si scoprono ben due cose. Una che i due ragazzi non erano assolutamente quelli che c'erano all'inizio, quelli che c'erano all'inizio appunto erano, non si sa dove fossero ma erano dei disadattati come lo sfigato che ho detto all'inizio, ma probabilmente erano tra le vittime o comunque non c'erano, non si sa. Questi due ragazzi invece li hanno scoperto che fossero, erano totalmente inseriti nella società scolastica, anzi erano tra i più ricchi eccetera eccetera, proprio per far capire appunto a chi all'inizio avrebbe detto avete visto questi guardano i film dell'orrore da piccoli e quindi sono diventati così. No, proprio per far capire che non è assolutamente il media che leggi a farti diventare un essere orribile. Se sei un essere orribile sì, aiuta, aiuta a darti delle idee, ma assolutamente no, anzi la lettura, l'immersione in mondi diversi che possono essere quelli dei videogiochi piuttosto che quelli di un film, piuttosto che quelli di una lettura, di un libro, di un fumetto, non generano assolutamente mostri, anzi aprono la mente, ti arricchiscono dentro e ti fanno imparare a convivere con le persone che sono diverse da te. Questo se sei una persona normale. Se hai dei piccoli disturbi chiaramente devi essere seguito a prescindere da quello che leggi. La seconda cosa che viene svelata alla fine è che pare che questa scuola non sia una scuola come tutte o quantomeno, o almeno quello che vogliono farci credere è che magari tutte le scuole sono così, ma che in questa scuola loro erano particolarmente consapevoli di questa formazione di questi ragazzi. Questi professori paiono essere degli adetti del momento blu, questo strano movimento che precede l'alba. Loro sanno che la guerra sta arrivando, non so se vogliono fare appunto una strage di dimensioni più grandi verso i mostri della società o, non lo so, stanno preparando appunto i ragazzi a vedere questi mostri. Non si sa bene cosa intendessero, ma si sa che fondamentalmente era come se fossero dalla parte dei carnefici e non delle vittime. E per quello dico sarebbe molto interessante vedere sviluppato in più numeri questa sottotrama fino a una catarsi finale. So che non succederà, però questo è quello che a me piacerebbe vedere dalla serie regolare di Dylan Dog post reboot. Se succede sarebbe anche ora, se non succede mi adatto e mi accontento delle storie piacevoli che ogni tanto vengono fornite. Grazie per avermi seguito fino a qui, io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che ovviamente sarà quello di Samuel Stern.